sto giocando le slot no e sto bevendo gin tonic no ma sto bene no è tutto contro guardami se guarda qua sono serenissimo no cosa ne pensi stai perdendo solo soldi quando ti ho donato 10 euro prima in modo tale che tu potessi andare via senza aver perso nulla e continuato a giocare prima il tuo saldo era di 99 euro e di 85 ero dei solo 100 perdendo soldi allora il grande di 10 euro ma ma io l'ho donati così che lui no così che lui andasse in pari e poi potesse uscire tranquillo al massimo mandi impara perché c'ha più soldi da spendere no 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 non parliamo di questo ma parliamo del fatto che guarda l'intrattenimento che sto fornendo ma potresti fornirlo in tanti altri modi tu sei molto capace non c'è bisogno di questo è che un po mi piace guarda guarda il gargantua guarda il gargantua guarda solo perdendo soldi gargantua gallinella appena arrivo a 20 euro spesi non tocco più niente sei arrivato hai già speso 40 euro no ho speso 20 euro quasi non è 18 e ria 120 merda 120 no sono il boy il 20 è il bonus che mi ha dato quando finisco i 100 c'ho altri 20 perché se il famiglio adesso voglio che manca che mi dice un numero sulla anzi un colore sulla roulette non c'è nessuna roulette qua no no non giochiamo di azzardo si dici tu che non giochiamo di azzardo ma ci mette una mattia guarda basta che faccio così un solo colore ma i tuoi 10 euro è finito i soldi sei 80 euro è finito guarda ti faccio provare una guarda dovessi provarlo anche tu ma cos'è no i tuoi 10 euro guarda cosa fanno no no guardi finito dimmi un numero un colore scusa sono un colore ma c'è il 50 per cento di possibilità chiaramente gioca 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 rosso nero ok perso uno hai perso hai perso un giro ma che vuol dire non ho fatto niente hai messo hai messo 10 euro adesso giochi mangaka ma non ho messo niente bevi bevi dell'alcol non ho messo niente bevi e gioca d'azzardo no 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 non ho messo niente hai dato mi ha detto 10 euro mentre giocavo d'azzardo non hai specificato in che modo volevi usarli adesso mi dici o nero o rosso a te quale colore piace di più ma non lo dico diciamoli insieme al 3 diciamo il nostro colore ok è lo stesso li metti se no no ok 1 2 3 nero nero cazzo ed era pure il rosso mi sa e perché proprio il nero proprio per non sembrare perché il rosso è il colore delle fiamme del fuoco del fuoco i demoni il nero è la ossigiana il nero rappresenta la fine la fine è il nero è scura sì 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 eccoci qua eccoci qua manca che guarda il primo guarda il brivido ecco che scende ecco che arriva e abbiamo abbiamo perso basta è la fine basta giocare va bene mi piace mi piace mi piace come fatto adesso spero gregg e gioco gli altri no dai aspettare king è venuto d'azzardo non ho mai giocato d'azzardo e appena giocato d'azzardo no dario mocio io dario sono il donato aspetta luca sono in live con mangaka e abbia appena dato 10 euro da mettere sul nero su una roulette è falso no no questo è falso non è andata hai detto di no io ho visto tutto tutto c'è la clip vieni a vedermi live se vuoi mangaka ha giocato d'azzardo con me anzi mi ha addirittura spinto verso il gioco d'azzardo ma non ho spinto niente io tutto tutto guarda è giocato è giocato d'azzardo perfino nel giocare nel decidere se giocare d'azzardo se esce il rosso cioè se esce lo stesso numero insieme quello è giocare d'azzardo no quello è sapere se siamo allineati sapevo che tu mi avresti capito e quindi avresti detto beh finiti questi soldi smettiamo perché se avessimo vinto tu avresti continuato sì mentre ora i soldi sono finiti no non sono finiti ci sono ancora 90 euro ragazzi se volete fare una piccola donazione sto scherzando chiaramente mi è un po' dispiaciuto vederti rigiocare stasera se non ho caduto le tue amicizie si sono allontanate come avevamo detto quelle cattive influenze su di te vedi che siamo soltanto io te hai sentito poi la fine non conosco sandronio ma le saluti ma sembrano alessi e sandrino ma super tranquilli non ho visto io vado anche in chiesa la domenica non è assolutamente vero questo non è necessario ma se lo fai per te va benissimo scusa c'è un audio per te dimmi vabbè ma scusa fanetti ma mangaka è un coglione ma che cazzo sostiene il tuo gioco d'azzardo comunque non passo in live perché sono in live anch'io anzi quando stacchi passa è che c'è il pabbone dell'amico stasera siamo tutti in live insieme via fai a modo eh smetti di giocare a quella merda guarda te ne ha dette 4 anche lui silenzio un secondo sicuramente mi piacerebbe passare ma dobbiamo capire un attimo allontano un po il microfono e dobbiamo capire se c'è mangaka abbiamo capito che comunque mi ha insegnato a allontanare come si dice influenze negative se c'è mangaka vabbè possiamo pensarci se non c'è dimmelo qui anche in privato se riesce a mutare ragazzi no no ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono cosa per te ci sono sempre dammi il tempo di cenare e dopo arrivo al pub dell'amico facciamo altri 10 euro e sempre scoprire dopo il fondo normale 70k ha fatto riccardo 20 complimenti ecco why this is my recommendation e questo ci sta